Il Comune di Medesano ha pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook un post in cui annuncia forti riduzioni sulla tassa rifiuti per coloro che sono stati colpiti da un forte calo di fatturato a causa dell'emergenza pandemica in corso. Il post recita Tassa rifiuti, in arrivo forti riduzioni sulla tariffa a favore di chi ha avuto notevole calo di fatturato a fronte dell'emergenza sanitaria. Come già anticipato a giugno, l'amministrazione ha voluto riconoscere riduzioni importanti a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte alla gestione dell'emergenza Covid-19. Chi ha subito la chiusura forzata dell'attività si ritroverà uno sconto notevole nella bolletta della Tari. Contestualmente è stata introdotta un'ulteriore riduzione a favore delle utenze non domestiche che pur non avendo chiuso l'attività hanno comunque registrato un rilevante calo del fatturato. Con riferimento alle riduzioni tari collegate al calo di fatturato verranno concessi a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei primi sei mesi dell'anno 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei primi sei mesi dell'anno 2019. Dovrà essere presentata, appena di decadenza, specifica richiesta al Comune entro e non oltre il 30 settembre 2021. L'importo della riduzione applicabile non potrà superare il 70% su base annua della parte variabile della tariffa tari. Dalla giornata di lunedì sarà disponibile online sul sito del Comune di Medesano la modulistica da utilizzare per fare la richiesta e aver poi diritto ad una riduzione della tariffa. L'amministrazione successivamente controllerà ogni richiesta ricevuta per verificare la veridicità delle stesse. Le riduzioni della tari sono un segnale concreto di vicinanza al mondo del commercio. Lo abbiamo fatto nel 2020, lo stiamo facendo nel 2021 e se sarà necessario lo faremo anche nel 2022. Avanti, un passo alla volta!